Amici di Mr. Gadget, direttamente da Londra, ecco un primo incontro con Huawei P8. Dico primo perché poi nel corso del tempo ovviamente didicherò un po' di attenzione a questo nuovo prodotto di Huawei. Guardiamo la scatola che onestamente è un box curatissimo, davvero notevolmente migliorata la situazione rispetto al passato. Questo probabilmente è il primo effetto del design center che come sapete è stato installato a Parigi da un po' di tempo e che lavora proprio sui nuovi prodotti. Allora, il telefono. Apriamo immediatamente la scatola per estrarre questo oggetto. Allora, un prodotto che onestamente è staccato da tutte le protezioni che abbiamo visto magari se qualcuno di voi ha seguito il video su Periscope e visto un po' più da vicino senza tutto il marasma ma soprattutto senza anche l'impedimento dato da quegli controlli, insomma, anti-taccheggio. Vi devo dire che il telefono è molto meglio di quanto apparisse in un primo momento. Una cura del dettaglio, certo, c'è un richiamo ad alcune, diciamo, forme, disegni di altri prodotti. Ma lo sappiamo che questa è una delle caratteristiche di Huawei, non è una cosa su cui andare tanto a meravigliarci. Quello che vorrei invece vedere è la differenza di dimensione rispetto al precedente modello, ovvero il P7. Vedete, 5,2 pollici contro 5 pollici. Per quanto riguarda lo spessore siamo praticamente, guardate, allo stesso identico livello. Siamo più o meno, insomma, allo stesso punto. Io stavo guardando adesso anche a profilo. Mi sembra di poter dire che siamo veramente con lo stesso tipo di dimensione a livello di profilo. Però cambiano un po' di cose. Vediamole insieme intanto per quanto riguarda il disegno di questi due prodotti. Da un lato per entrambi una pulizia assoluta del disegno. Vedete però che cambia, vi ricordate, la double C, cioè nel senso una C in questa direzione e una C in questa direzione. Ecco, quel fattore del disegno è stato abbandonato. La parte superiore che rimane praticamente identica con l'attacco per le cuffie e con l'attacco con il bilanciamento del microfono. Questo lato che rimane altrettanto, insomma, rimane uguale per quanto riguarda la distribuzione, cioè volume rock, quindi controllo del volume. Il pulsante d'accensione che qui è incassato, praticamente sporge di pochissimo rispetto al profilo del telefono. E poi micro SD e nano SIM. Qui c'era invece una micro SIM. Vi voglio segnalare una cosa, noi avremo una versione con l'inserimento di una micro SD e ci sarà invece una versione in giro per il mondo con due nano SIM, con la possibilità di usare alternativamente nano SIM o micro SD. Parte inferiore, vedete, con l'attacco micro USB come al solito e poi vedete invece gli altoparlanti che sono stati spostati rispetto al passato, quando erano in questa posizione posteriore. Il disegno cambia sul retro, materiali era tutto vetro qui sul retro, invece al metallo unibody. C'è una cosa importante da sottolineare, già qui comunque la fotocamera era praticamente al filo con la costruzione, rimane a filo da questa parte a differenza di alcuni competitors iPhone e anche, perché no, bisogna dirlo, Galaxy S6 hanno invece una sporgenza. Come si comporta il telefono? Allora, vediamo subito di andare a pescare il nostro Google Chrome, andiamo a cercare il Corriere della Sera, magari diamoci anche un po' più di luminosità, togliamo la luminosità automatica, mettiamo la luminosità al massimo, così possiamo vedere anche la qualità del display. Chiediamo anche il sito desktop in modo tale che venga caricato quello che a noi interessa veramente vedere. Tenete conto che io sono collegato ad una rete a vapore per quanto riguarda la rete internet qui dell'albergo, quindi può essere anche che i tempi di caricamento siano prolungati. Adesso insomma vediamo quello che succede man mano il telefono si ricarica, quindi potrebbe volerci un po' più di tempo rispetto al solito. Proviamo a ricaricarla così insomma il telefono va un po' in confusione e si innervosisce anche. Richiamiamo a questo punto magari Corriere.it in questo modo, perché vedo che proprio adesso la navigazione è praticamente bloccata. Però ecco, per quanto riguarda il telefono, mentre aspettiamo che si muova la navigazione, vediamo il resto. L'interfaccia è quella che ormai conosciamo bene di Huawei, peraltro la EMUI 3.0. A bordo di questo telefono c'è un Android 5.0. Voglio farvi vedere anche il menu delle impostazioni. È cambiato leggermente rispetto a quello della EMUI 3.0 originale. Andiamo a vederlo insieme. Intanto vedete che i colori, da una parte la predominanza del nero, invece da questa parte del bianco. E poi vedete anche che è un po' più di difficile lettura. Mettiamo magari entrambi i telefoni con la luminosità al massimo, se no questo sembra una cosa. Ecco, guardate però la differenza del bianco. È un periodo che tutti i telefoni che andiamo a provare hanno queste caratteristiche. Il bianco ha una trattura totalmente diversa. Questo è un IPS display con una qualità notevole, però c'è sempre questa caratteristica del bianco che insomma andiamo a vederlo confrontando magari corriere e corriere, che potrebbe essere insomma il modo. Qui intanto la navigazione ecco, piano piano sta arrivando. Mettiamo il corriere da una parte e il corriere anche dall'altra in modo tale da poter confrontare i bianchi. Però lo vedete, guardate, già da questo momento vedendo due pagine bianche, una di fronte all'altro, notate con quanto diversa sia la qualità di questi display. Ma è una cosa che ci sta capitando in questo periodo praticamente con qualunque telefono noi andiamo a provare. Non so se vi ricordate anche qualche giorno fa quando, vabbè, adesso insomma non stiamo a aspettare il caricamento delle pagine visto che è molto lento. Però insomma ricordate anche qualche giorno fa con il confronto tra M8 e M9, tra Galaxy S5 e S6, insomma a quanto pare il bianco assoluto non piace più a nessuno. Allora, per il resto il telefono Dailer, vedete, con una struttura molto 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 semplice, pulita sempre, insomma richiama sempre l'iMui 3.0. Volevo farvi vedere anche la fotocamera. Fotocamera che anche in questo caso richiama molto quello che è il mondo, sì certo, ok, va bene, quello che richiama il mondo di Huawei, scusate, di iOS, ma è una cosa che avevamo già visto anche con il precedente. Allora, questa modalità, vedete, questo è un sistema praticamente che potete utilizzare per creare degli effetti come che vengono chiamati light painting, effetto acqua seta, l'effetto dei graffiti luminosi e l'effetto delle scie luminose. Ecco, potete scegliere questo tipo di effetti che può essere utilizzato per migliorare le vostre fotografie. Questa sera mi metto in circolazione qui per Londra, scatto un po' di immagini, le posto immediatamente Twitter, Facebook, Instagram senza filtri in modo tale da poter verificare quale sia la qualità di questo prodotto. Vediamo anche per quanto riguarda, vedete qui viene segnalato in pratica che io posso scegliere di aggiungere o di togliere pagine per quanto riguarda il telefono, semplicemente toccando. Ah, ecco, qualcuno mi chiedeva se ci fosse la radio, non c'era, non la trovavo nel modello di Huawei che c'era in esposizione, che aveva un software cinese, invece in questo caso vedete che la radio è presente. Io adesso sto cercando di installare un po' di applicazioni, torneremo nei prossimi giorni magari per ascoltare l'audio, vediamo se riusciamo ad ascoltarlo andando a prendere il sito di Radio Number One e quindi andando a prendere lo streaming di Radio Number One direttamente da qui senza passare da TuneIn Radio che non ho ancora installato. Vediamo insomma qual è la reattività del telefono e la qualità dell'audio. Che altre cose ci sono? Allora, c'è una soluzione che si chiama Signal Plus che aumenta sensibilmente il segnale del Wi-Fi, migliora anche la ricezione per quanto riguarda proprio il segnale radio del telefono. Altra soluzione importante, quella invece per il processo della voce che è amplificato notevolmente proprio nella capsula del telefono e poi non solo, c'è anche un'altra soluzione per la riproduzione anche del suono che dovrebbe avere dei bassi più profondi ma vedete adesso purtroppo con questa velocità della rete non riusciamo a verificarlo. Che cos'altro c'è? Anche una soluzione bizzarra per cui si può personalizzare il telefono, gli si può chiedere dove sei e il telefono comincia a squillare per farsi ritrovare quando lo si perde. Insomma, una serie di cose, una doppia antenna tra l'altro con una soluzione che è ovvia al problema che quando c'è un telefono in metallo unibody la mano rappresenta una schermatura molto importante ma Huawei è progettato proprio per evitare anche questo tipo di controindicazioni. Abbiamo visto il display, rimane un Full HD IPS, fotocamera 13 megapixel, la fotocamera ha tra l'altro una serie di funzionalità prima abbiamo visto insomma qual era il menu in realtà la cosa fondamentale della fotocamera è che ha un processore dedicato vediamo insomma se riusciamo a vedere un effetto ha un processore dedicato per cui il tempo di messo a fuoco è anche, vedete che ha scattato e memorizzato in tempo zero e guardate anche zoomando molto la fotografia come tenete conto che qui c'è la plastica tra cui passa come la fotografia in realtà è veramente ben scattata non solo c'è un sistema di riconoscimento automatico della scena per cui una sorta di HDR automatico vengono scattate quattro foto contemporaneamente e mixate, sovrapposte per raggiungere il risultato di una foto con la corretta esposizione in tutti i punti di esposizione insomma questo è il primo impatto di un telefono che è sicuramente interessante una naturale evoluzione rispetto al modello precedente adesso si tratta di usarlo un po' di provarlo per potervi dire poi insomma come si comporta nella vita di tutti i giorni intanto io vi ringrazio per avermi seguito oggi nel live blog anche in diretta da Londra noi ci troviamo poi in questi giorni con una serie di altre prove che sono lì pronte per essere riportate a voi attraverso il nostro canale YouTube e attraverso MrGadget.net ciao